L'argomento di oggi è il CAM, sono i criteri minimi ambientali nelle nuove costruzioni e soprattutto anche sulle vecchie costruzioni. È importante infatti recepire a mio avviso la nuova legge regionale, la 24 del 2017, nella quale si parla finalmente non più solo di nuove costruzioni ma di riqualificazione. Riqualificazione che viene reclinata non solo da un punto di vista edilizio ma anche da un punto di vista urbano. Dobbiamo renderci conto che il paesaggio antropizzato non può più essere deturpato con nuovi piani di lottizzazione bensì con una riqualificazione e una ricostruzione del tessuto urbano che abbiamo già. Quindi l'incontro di oggi proprio si volge verso questo tipo di informazioni. L'argomento di oggi è un evento di controllo e di accortamento sui temi oggi assolutamente attuali, quelli della sostenibilità ambientale, non solo fine a se stessa ma anche pensata appunto in quello che è poi lo sviluppo, lo sviluppo delle attività produttive, nell'ambito delle costruzioni, nell'ambito più generale anche dei temi delle comunità circolari, in cui si parla di questi conti, sul cimento. Cioè è un momento veramente dove attraverso contando le nuove parti che già oggi sono messe in campo, è possibile approfondire un campo e un tema che soprattutto nel nostro territorio deve trovare uno sviluppo e deve trovare anche una sua nuova applicazione.